Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, gioco una partita blitz contro un 2127, cavallo f3 e6, vediamo di rientrare o in una francese, o in una olandese, ok, olandese. Ok, giocherà c4, sì, perfetto, e adesso alfiere g5 subito, vabbè, chiediamogli subito cosa vuole fare con questo alfiere con h6, ma sì dai, così prendiamo questo alfiere, abbiamo già la coppia di alfieri senza che lui abbia un vero e proprio vantaggio. Ora, allora io potrei giocare alfiere b4, io indebolisco però, gli ridare indietro un po' questa coppia, e no, gioco b6, alfiere b7, e4 subito, pedone per, cavallo per, scacco, cavallo in d2 per esempio, no, cade d4, secondo me è un po' complicata, vediamo. Allora, se è cavallo c3, cioè volendo potrei pure catturare, perché i suoi pedoni sono più deboli dei miei, non c'è alcun dubbio, e me la gioco in maniera posizionale. Oppure, gioco alfiere b7, arrocco e attacco sulla colonna f, sono due scelte, alfiere b7, se non è però alfiere b7 è molto più attiva. Quindi giochiamo alfiere b7. Fiene 2 difende, ok. Vabbè, intanto arrocchiamo. Sono indeciso, forse avrei dovuto catturare, non lo so. Ok, ormai me l'ha evitato, non ci pensiamo più. Allora, cavallo in c6, e comincio ad attaccare d4, ma soprattutto poi porto questo cavallo da questa parte. Sì, dai, ci può stare. A3. Salfiere per, torre per, cavallo per d4, non può catturare di cavallo, però mi catturare di donna. Mi catturare di donna, alfiere per cavallo, donna per donna, no, non c'è niente. Non ci sono tattiche. Però se riuscissi a tenere questo re al centro sarebbe pazzesco. Alfiere per, torre per, re 5, mi fa d5. B5. No. E allora, questo alfiere dove lo mettiamo? Lo metto in d6. Ah, mi fa tipo cavallo in b5. Cavallo, avrei dovuto, avrei dovuto dare alfiere al cavallo? Sì. Ho sbagliato. Alfiere d6, cavallo b5, alfiere f4, torre in c2, a6. Vabbè, a questo punto teniamoci questa coppia e vediamo un po' di valorizzarla, crea qualche minaccia. Ah no, c'è con le 4. Vabbè, donna in e7 a sto punto. Ho anche donna f4 volendo, anche donna f4. Mi sa che porto questo codine f5. Sì, direi di sì. Attenzione, torre f4. Come difende il pedone? Mmm, bella torre f4. Deve fare d5, pedone per, pedone per, cavallo e7. Torre f4. Attaccando la sua debolezza, ovvero il pedone in d4. Su d5 ci sono altre mosse belle che ho. Ma se uno è pedone per. Ah, però pedone per mi fa donna per. Donna per, pedone per, cavallo io, hdc7. Se d5 gioco cavallo a5, attacco c4. Che succede? C5. C5 non ce l'ho pensato. Eh, c5 è interessante. No, no, perché io non catturo. No, gioco donna d5. E questo pedone lo fisso. D5 non mi fa f4 e c4. Vabbè, vado, vado nell'h5. Sì. E mi catturo, catturo di a. Secondo me, avrò potuto trovare lui d5. Invece adesso, devo semplicemente evitare che lui spinga in d5 e attaccare con tutti i pezzi questo pedone. Inoltre adesso si apre anche con a. Quindi ho scelto, magari in futuro, di attivare la torre in questa maniera. Potrebbe essere interessante. Fere c4. La donna h5, se non è chiamata. Sì, dai. Senza alcun dubbio. L'attenzione è qui, perché su d5 potrei cercare di creare un attacco su questo cavallo. Da capire un po' come. Ah, ma attenzione, c'è un'altra idea. Se d5 è torre per alfiere, torre per alfiere a6. Però c'è piano per cavallo. No, c'è. Non lo so. Potrebbe essere interessante. Oppure, ne ho altre idee. D5. D5. D5, cavallo a5. Cavallo a5, pedone per. Cavallo per, torre per. Ok, non l'ho giocata, però quella linea era buona. Torre in c3. Torre in c3. Allora. Allora. Vabbè, o cavallo a7, semplicemente. Cominciamo ad attaccare sempre di più. Oppure, non c'è tipo cavallo per, cavallo per, donna per, torre per. No, non c'è niente. No, cavallo a7. Cavallo a7 non ci rende di male. Tutti i pezzi. Però lui cosa mi fa? Mi fa cavallo a5. Io faccio donna g5. Sì, dai, qui si attacca. Alfierine 2. Cavallo a5. Attenzione alle scoperte. Potrei fare anche tipo donna in g4. Vabbè, ma cavallo a5, cavallo a5, donna qui, alfiero a5. Alfierine per, cavallo per. Eh, ho poco tempo. Poco tempo non si può pensare. G3. Alfierine per. Alfierine per. Torre per, alfierine per donna, torre per donna. No, 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 no. Vabbè, donna g4, donna g5. Donna g4, cavallo a5, donna g5. No, donna g5 è sotto. Dai. Ci fa. No. Incredibile. Sto pensando a qualche tipo trucchetto se porto il cavallo in h3. Vediamo, dai. Però. Come si va a portare con la casa giugno? Tipo quattro mosse. Niente. Super concentrato sul non farmi gatturare la torre e inchiodare questo pedone. Non ho pensato. Quale c5. Niente. Mi sa che per oggi ho dato. E a volte capita anche di lasciare un'impresa. Ci vediamo al prossimo video. E vi lascio qui di video in sua impressione. Ciao. Ciao.